Una partita complicata per i giallorossi, primo tempo più nelle mani della Provercelli e poi è venuta fuori la squadra di Baroni. Sì, sapevamo che comunque qua era un campo difficile, che loro l'avrebbero messo sul piano di aggressività e il primo tempo è stato così. E noi siamo stati bravi comunque a tenere botta e nel secondo tempo penso che loro siano calati un po' e noi abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e alla fine siamo riusciti ad avere il tre punti. Ecco, con la sincerità che ti contraddistingue, più rigore quello su Ceravolo o su di te? Sicuramente da getto io con il Ceravolo mi sembrava rigore, poi alla fine non sta a me giudicare. Però sono gli episodi, oggi è andato a nostro favore e noi siamo venuti qua per tornare a casa vittoriosi ed è stato così. Quindi siamo molto più felici e abbiamo tempo per preparare la prossima partita. Sonia, ti lascio alla linea se ci sono domande per Sissè. Allora certo Moco, prima di tutto buonasera, una domanda da parte mia. Con l'inserimento di Ceravolo tu sei stato spostato a sinistra, è decisamente meglio il Benevento? Sì, sì, diciamo che Fabio è molto bravo ad attaccare la profondità. Appena è entrato si è visto subito, ha messo la difesa avversaria in difficoltà. Io ormai a sinistra mi sto trovando benissimo. Comunque come dico sempre bisogna sacrificarsi per il bene della squadra. Quindi noi oggi penso che la squadra, la fase difensiva, ha fatto un grandissimo lavoro. Sì, abbiamo vinto anche in merito loro. Quindi noi adesso abbiamo tempo per preparare meglio la prossima partita. Ciao Caramoco, innanzitutto auguri per la prestazione anche di oggi. Anche se leggevo dalla cronaca che non è stato proprio il solito Benevento. Però diciamo, in campo Caramoco si seda sempre il suo contributo. Non si fa... cioè, è difficile notarlo, no? No, no, io come dico sempre quest'anno abbiamo una grandissima opportunità, penso tutti. E noi l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, però quest'anno vogliamo ripeterci ancora. E quindi alla fine penso che, visto che davanti la concorrenza è tanta, il mister penso che fino adesso mi ha dato tanta fiducia. E io cerco di mettere il massimo impegno e cercare di ricambiare la sua fiducia, come sta facendo bene tutta la squadra. Quindi comunque siamo un gruppo molto affamato e quindi ci stiamo comportando, penso, nel modo giusto.